. Bossari e Laura Freddi hanno avuto una storia da giovani, è finita per un tradimento di lui. Daniele Bossari e Laura Freddi sono stati insieme da giovani, lo rivela il settimanale di Pooh. Scoop nel mondo dello showbiz italiano, Daniele Bossari e Laura Freddi hanno avuto una storia damore quasi 20 anni fa. A rivelarlo il settimanale di Pooh, che riporta delle dichiarazioni della showgirl rilasciate nel corso di alcune interviste. . La relazione non è mai venuta a galla fino ad oggi perché è durata molto poco e finita in malo modo, a quanto pare il vincitore del grande fratello Vip ha tradito l'ex Villina. . I due si erano incontrati nel 1999 nei corridoi Mediaset. All'epoca entrambi erano in forte ascesa. . Lui aveva 25 anni e dopo tanti anni di gavetta in radio aveva presentato Fuego su Italia 1 e presto avrebbe condotto la prima edizione di Amici, che poi sarebbe diventato Amici di Maria De Filippi. . La Freddi, invece, aveva 27 anni ed era già famosa, aveva partecipato a Nonè la Rai, striscia la notizia e presto avrebbe condotto Buona Domenica con Maurizio Costanzo. . . . Le dichiarazioni di Laura Freddi su Daniele Bossari. Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso ha raccontato Laura Freddi alla rivista diretta da Sandro Maier. . . Quando Bossari è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. . . Il primo con Paolo Bonolis e l'altro con il calciatore Fabio Galante. . . Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. . 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 E poi, quando ho scoperto chi era veramente Daniele e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata in un solo pomeriggio o traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo ha spiegato la presentatrice. Daniele Bossari non ha mai parlato di Laura Freddi. Al contrario di Laura Freddi, Bossari non ha mai menzionato questa storia d'amore. A pochi mesi dalla fine di questa relazione, si è legato all'attuale compagna Filippa Lagerba che presto sposerà e dalla quale ha avuto 14 anni fa la figlia Stella. Anche Laura è andata avanti con il compagno Leonardo, è incinta del primo figlio che nascerà a gennaio.